Ha senso fare acquisti di arredo e complementi di design per la casa durante il Black Friday? La risposta è certo che sì, a patto però che pianifichi la tua wishlist, stilando una classifica di ciò che realmente ti serve o a cui desideri dare la priorità. L'imperativo è evitare lo shopping compulsivo. Ti propongo allora 10 consigli mirati agli acquisti in ambito di arredo casa e design per sfruttare al meglio questo appuntamento con lo shopping a prezzi scontati. Bentornata o bentornato sul canale di Casa con Svista, un progetto editoriale multimediale che tra blog, podcast e canale YouTube ti propone ispirazioni dal mondo dell'interior design, home and green decor, fai da te ed intorno. Io sono Gloria, una giornalista appassionata autodidatta del mondo dell'arredo. Insieme andremo a caccia di storie di case e cose utili per rendere gli spazi che viviamo ancora più wow. Il tuo piano di battaglia deve partire dalle date. Il Black Friday è un appuntamento che arriva dall'America e che dopo una prima timida accoglienza negli ultimi anni si è imposta anche come attesa abitudine di acquisto anche qui in Italia. Il venerdì nero si lega al giorno del ringraziamento che negli Stati Uniti coincide con il quarto giovedì di novembre. Per tradizione il Black Friday è il venerdì dopo il giorno del ringraziamento che quindi quest'anno cade venerdì 29 novembre 2024. Ma gli sconti non si concentrano più in un unico giorno. A dettare la linea è il colosso del commercio online Amazon che ormai fa durare la sua settimana del Black Friday ben 12 giorni dalla mezzanotte 01 di giovedì 21 novembre alle 23.59 di lunedì 2 dicembre in modo da includere direttamente anche il Cyber Monday. Altro giorno è entrato nelle abitudini di acquisto con sconti speciali soprattutto in ambito tech. I Black Deals sono poi offerte che si protraggono anche per tutto il mese di novembre che quindi sono già attive da settimane prima di questo fatidico venerdì 29. Solitamente sono i grandi marchi internazionali a promuoverli. Anche se gli affari migliori con le percentuali più alte di sconto generalmente si concentrano intorno al giorno del Black Friday. Se già mi segui da un po' sai che ogni anno mi diverto a selezionare in base al mio estro e gusto personali, arredi, complementi ma anche elettrodomestici dove il design del prodotto fa sempre la differenza. Ti consiglio quindi di andare a sbirciare sul mio blog casaconsvista.com anche le mie liste degli anni scorsi per trovare qualche ulteriore spunto sempre valido. E quindi te li riassumo qui velocemente come la planetaria Kitchen Head che poi appunto ho comprato proprio col Black Friday dell'anno scorso e depennato dalla mia wish list oppure le raffinate proposte tessili di Borgo delle Tovaglie, la sedia cult wishbone di Karl Hansen & Son, i tappeti di Nordic Notes e ancora sempre dai consigli degli anni scorsi ti ripropongo i briosi piatti della tavola scomposta di Tossi, l'elegante linea di piccoli elettrodomestici plissè di Alessi, le iconiche stampe tipo uno, la mela e simili di Enzo Mari per Danese Milano che poi appunto questa ad esempio è finita appesa nella nostra cucina proprio con un Black Friday. Posate, dorate per la tua tavola, natalizia, lampade di design ma accessibili come la Mayday di Floss o ancora TV belle anche che arredano come la Samsung Frame o ancora mocche di design, carte da parati, chi più ne ha più ne metta. Continuando questa rapida carrellata ricordo anche di averti già consigliato l'intramontabile lampada parentesi di Floss, i piatti decorativi come quelli firmati da Tony Hall, lo specchio lipstick di toilet paper per seletti e tappeti in lana a pelo lungo so 70's e la mitica sedia tripolina in legno e tela, proprio stile campeggiatore. Ma se ancora non hai trovato l'ispirazione che fa per te continua a guardare questo video per scoprire i miei nuovi 10 consigli di arredo a prezzi scontati per il Black Friday. Consiglio numero uno, il frigorifero Smeg. Ma dove vai se il frigorifero Smeg non ce l'hai? Se anche tu nella vita ambisci prima o poi a realizzare il sogno più che proibito, proibitivo visti i prezzi rispetto ad altri marchi con le stesse performance, di comprarti un frigorifero Smeg bombato e colorato stile anni 50, benvenuto nel Nutrito Club. Dopo che avrai messo da parte il budget necessario, fiondati sulle offerte rare per le icone come uno Smeg che comunque si vende lo stesso da solo, ma magari presenti proprio in occasione del Black Friday. I formati sono vari, in altezza, in combinazione o meno con il freezer che può essere posizionato in alto, in basso e di diverse misure. Fatta la scelta, codice prodotto sotto mano, che ti consiglio di copiarti direttamente dal sito ufficiale Smeg per non sbagliare, sei pronto a scandagliare il web alla ricerca del miglior prezzo. Circa 1800 euro è al momento il più diffuso in rete per il modello a doppia porta nel tradizionale color bianco crema. Consiglio di acquisto numero 2. La testiera a letto in Vimini. Arreda da sola anche la più semplice delle stanze da letto. La testiera in Vimini con elaborato intreccio artigianale in stile Peacock, ovvero che richiama l'iconica sedia pavone, del modello Malu di L'Arredut, è nella mia wishlist da tempo e proprio con gli sconti di questo Black Friday sarà finalmente davvero anche mia per un progetto diciamo estivo. Te la consiglio in quanto perfetta per la casa delle vacanze al mare, ma è ideale anche per lo styling beau chic della cameretta delle nostre figlie o ancora per portare un tocco di esotico nella nostra stanza da letto oppure se abitiamo in piena metropoli. Dalle ampie misure si abbina benissimo anche con un comodo materasso king size. Io sono appena riuscita ad accapparrarmela sul sito di L'Arredut a meno di 190 euro contro un prezzo pieno di partenza di 299. Consiglio numero 3. La lampada Falkland. Farsi una Falkland significa mettersi in casa un'icona degli anni 60 firmata dall'illustre designer Bruno Munari per Danese Milano. Nota come la lampada calza, la Falkland è una sospensione geniale nella sua semplicità. La forma scaturisce infatti da una maglia elastica tubolare tenuta in tensione dal peso di alcuni anelli metallici di diverso diametro posti tra loro a distanze prestabilite. Un pezzo di design tra l'altro democratico perché già il costo di partenza è accessibile. Val proprio la pena scandagliare il web o i negozi a caccia di sconti per i Black Friday che rendano la Falkland ancora più un affare. Il mio consiglio è quello di acquistare il formato originario più lungo da 165 cm venduto a prezzo pieno a 305 euro ma che si trova già in sconto mentre registro questo video su Amazon a 261 euro. Consiglio di acquisto numero 4. I componibili di cartel. Il Black Friday è perfetto per investire in un altro classico del design a maggior ragione se dal prezzo ancora una volta democratico come i componibili di cartel. Firmati nel 1967 da Anna Castelli Ferrieri costituiscono un sistema dove con la semplice sovrapposizione e incastro i singoli pezzi dalla forma quadrata o tonda danno origine a pratici mobili contenitori. La versatilità li rende adatti a tutti gli ambienti di casa. Sono proposti in molteplici varianti tra cui in bioplastica, metallizzati oppure persino con le faccine. Da poco sono pure usciti i nuovi colori. La difficoltà sta solo nella scelta. Si trovano in vendita a partire da poco più di 100 euro per i modelli più basici. Consiglio numero 5. L'orologio da parete retro Solari Dator 60. Dall'estetica appunto retro ma dalla tecnologia attualizzata il Dator 60 della Solari Udine è l'orologio dei miei desideri. Premesso che non mancano i device in casa dove scoprire che ora è il Dator 60 rappresenta per me un oggetto di design da appendere alla parete che ha il duplice vantaggio di segnare sia l'ora che la data visto che incorpora un calendario a palette perpetuo che segnala automaticamente il 29 febbraio e gli anni bisestili. Un design minimale che rievoca lo stile dei primi Dator della Solari degli anni 60 e che è disponibile sia in versione orizzontale che verticale e si alimenta con tre pile. Il prezzo pieno di listino attualmente è di 990 euro per tutte le versioni nero, bianca, orizzontale o verticale ma scartabellando online si possono trovare delle offerte non proprio sensazionali come 840 euro. Potrebbe valerne comunque la pena visto che ci si aggiudica un'icona senza tempo ma che il tempo lo segna eccome del design. Consiglio di acquisto numero 6 i tessili firmati Lisa Corti che si tratti di una tovaglia di un telo copridivano cuscini copriletto tende lo stile colorato ed eclettico che mixa righe e fiori di Lisa Corti è il tocco deciso di decor che la nostra casa si merita. Ecco perché quest'anno come tessili ti consiglio vivamente questo marchio italiano che trovi in sconto al 30 e 20% in questi giorni sul portale di e-commerce di Luisa Via Roma. Io comprerei tutto. Carinissimo anche il puff che vedrei ottimo oltre che in soggiorno anche come comodino alternativo accanto al letto. Peccato però che per il puff al momento non si scordano sconti all'orizzonte il prezzo è di 450 euro. Meglio allora magari optare per una tovaglia che si trova in sconto a 200 euro anziché al prezzo pieno di 2,50 euro. Consiglio numero 7 pentole di design. Se in cucina vuoi unire il buono al bello allora non ti resta che segnarti questi tre marchi da tenere d'occhio appena incontrerai l'offerta che si sposa anche al tuo budget a disposizione. Si tratta infatti di pentole di fascia alta. La prima che ti consiglio è la casseruola in ghisa vetrificata colorata di Le Crozet. L'arancio volcanic è il colore più iconico ma puoi scegliere tra tantissime tonalità o un pendant con il tuo stile. Accontentandoti invece del colore in offerta che trovi, beh, in questi giorni è in sconto online a meno di 270 euro la versione ampia da 28 centimetri di diametro. Secondo consiglio in tema di pentole che ti permette di cucinare letteralmente a vista è The Glass Pot disegnata da Massimo Castagna per KPN Industry è una pentola dalle linee essenziali in vetro barosilicato trasparente e maniglie in acciaio. Su piani cottura e induzione va però usato occhio l'adattatore. Oltre che per ammirare ipnotizzati la pasta che bolle e danza al suo interno beh, può essere utilizzata anche come glassette. Si trova in sconto da 170 euro. Ultimo e terzo consiglio in tema culinario la casseruola in rame e alluminio di pentole agnelli. Io ad esempio per ora ho solo la padella. per portare in cucina e direttamente anche in tavola l'eleganza senza tempo di materiali classici ma che dialogano con la tecnologia in quanto adatti anche all'induzione. Preparare un risotto e servirlo in tavola con una casseruola così aggiunge classe al piatto e ti fa sentire ancora più chef. La versione da 28 cm di diametro si trova in offerta a meno di 150 euro. Consiglio di acquisto numero 8 i piatti decorati di Ilaria I Se hai un debole per i piatti decorati allora nella tua collezione non può mancare almeno un pezzo di Ilaria I Un brand che aggiunge un tocco di allegria ed eleganza alla tua tavola o alla parete se preferisci appenderli. Disegni e messaggi ispirati alla natura alla cultura mediterranea per piatti in porcellana del design raffinato e originale. esteticamente piacevoli ma anche funzionali e resistenti sono ideali per l'uso quotidiano o per occasioni speciali. I piattini hanno un prezzo base di 25 euro ma cercando tra le offerte online in particolare per gli acquisti in set si risparmia. Io l'anno scorso li ho comprati nel modello Cinchin proprio come regalo natalizio per gli amici con dedica personalizzata sul retro uno ovviamente era anche per noi. Consiglio numero 9 paralume e candele Yankee Candle La casa madre Yankee Candle non commercializza purtroppo più questo accessorio nel suo shop online ma in giro se ne trovano ancora dei rari esemplari che ti consiglio di accapparrarti in quanto trasformano l'accensione di una candela profumata in un'esperienza sensoriale ancora più magica ed elegante l'oggetto del desiderio che non conoscevo mi è stato regalato un paio di anni fa e che ti consiglio per questo con cognizione di causa è il paralume Langham con piatto in vetro trasparente da abbinare alle candele in giara di vetro grandi o medie di Yankee Candle questa che vedi è una versione di riciclo fatta in casa non è una Yankee Candle originale in questo momento la lavorazione a prismi rifrange la luce trasformando la candela in una lampada dall'effetto altamente scenografico si trova ancora in vendita intorno ai 70 euro ma magari in prossimità del Black Friday potresti avere la fortuna di trovarla in sconto e visto il periodo pre natalizio non ti posso che consigliare in abbinata la fragranza per eccellenza e perfetta come colonna olfattiva per le tue feste in famiglia la Christmas Magic per te e per i tuoi ospiti una vera coccola varcare la soglia di casa e venire inebriati dalle note di pino betulla ed eucalipto ma anche mandarino bergamotto e legno di cedro anch'io corro ad ordinarne una in offerta durante il Black Friday per ora il prezzo è inferiore ai 34 euro ed è tra le prime fragranze a venire esaurita decimo ed ultimo consiglio di acquisto poster e manifesti cinematografici se vuoi cambiare l'aspetto di un ambiente di casa oltre che dipingendo nelle pareti un altro metodo ancora più rapido e comunque economico è tappezzarlo con una combinazione di stampe incorniciate in periodo di Black Friday potrebbe essere ancora più conveniente per questo ti consiglio di tenere d'occhio i numerosi portali specializzati nella vendita di poster e stampe sul mio blog casaconsvista.com ti avevo già mostrato il relooking del nostro mini bagno degli ospiti che ho fatto proprio con questa modalità ma adesso avrei in mente di decorare il corridoio che porta alla zona notte padronale con dei poster e in questo caso però maxi e il tema che ho scelto è quello appunto dei manifesti cinematografici magari nel formato soggettone cioè la misura da 70 per 100 cm il consiglio che ti do è distillare una tua classifica dei film preferiti e poi ricercandone il manifesto online fare una selezione di quelli con l'immagine più accattivante visto che non sempre ha un ottimo film corrisponde un'altrettanto riuscita sintesi grafica piccola chicca da cinefili a suggerirmi questa scelta decor è stato un film uscito nell'ormai lontano 2001 e che già all'epoca mi era rimasto impresso anche per questo dettaglio di stile mi riferisco a Vanilla Sky con Tom Cruise nella sua camera da letto spiccavano i maxi poster con i manifesti di due capolavori della Nouvelle Vague francese Jules et Jim di François Troffaut e Abou de Souffle ossia fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard per le locandine dei film se sei un cinefilo purista ti interesseranno soprattutto i manifesti originali che ovviamente costano molto di più sulle centinaia di euro anche per le più ricercate un paio di siti italiani per poster o manifesti anche originali sono GoPoster e Postermania ma se ti accontenti anche di una riproduzione le trovi ad esempio su Poster Lounge allora i prezzi sono decisamente abbordabili e con poche decine di euro a stampa trovi quello che cerchi e tu approfitterai degli sconti del Black Friday per acquistare quell'arredo quel complemento oggetto di design che da tempo sogni ce n'è qualcuno in comune con la mia lista dei desideri o ne hai altri da suggerire fammelo sapere nei commenti siamo dunque arrivati alla fine di questo video lasciami un bel like se ti è piaciuto e iscriviti al canale per aiutarmi a farlo crescere cliccando sulla campanellina saprai anche appena uscirà il prossimo video ti invito a seguirmi anche sul blog www.casaconsvista.com e sul podcast che trovi in tutte le piattaforme di streaming audio cercando Casa con Svista un caro saluto e ci rivediamo nel prossimo video ciao ciao